Oggi torniamo su Brawl Stars perché tra una settimana esce l'aggiornamento di Spongebob Mi sono persa un botto di cose ma siamo tornati super carichi Ad aprire 42 premi Star Drop e 7 mega casse Quindi ragazzi bentornati sul mio profilo di Brawl Stars Si mi sono persa un botto di cose, mi sono persa veramente un po' Mi ero presa una mezza pausa per impegni vari da Brawl Stars ma sono tornata più carica che mai Cosa sta per arrivare su Brawl Stars? Un Brought Walk dedicato a Spongebob Infatti ragazzi la nuova stagione di Brawl Stars come abbiamo avuto quella di Godzilla e così via Questa qui sarà dedicata a Spongebob, Spongebob, Spongebob E io sono contentissima È un po' di tempo che non gioco a Brawl Stars Prendiamoci subito i drop della mia vecchia stagione che non ho preso E voi iniziate ragazzi a dirmi tutto ciò che mi sono persa Quali sono le cose cicciose importanti che mi sono persa E se hanno aggiunto qualcosa che io devo assolutamente sapere Quindi raga tornano i video su Brawl Stars Vi avevo promesso che sarebbero tornati e quindi eccoci qui Oh mi piace adesso Allora 50 monete Ok Rare Punti energia va bene Donazione di reazione della skin Jessie allena Draghi Ok mi hanno dato la reazione della skin Adesso c'è la stazione questa qui Paintball Con Sandy Medusa Però c'è raga Spendere i soldi per comprarmi il pass adesso è alquanto inutile Lo che ero cercando di prendermi tutti i premi che riesco a prendere in questi giorni Ma quello che shopperemo al 110% Sarà poi la stagione di Spongebob Quella l'avremo subito In realtà a breve dovrebbe iniziare anche la stagione del mega salvadanaio Dopo mi faccio un check di tutte le persone che non giocano da un po' E li andremo a togliere Quindi raga questo è il mio club E quando state vedendo questo video c'è qualche posto libero Siete più che i benvenuti nel club Però raga vi avviso che io su Instagram vi avviserò molto più Mi avviserò quando ci saranno i posti Quindi seguitemi anche lì Ce l'avamo lasciati raga che l'ultima volta che io avevo trovato Barry, Barry l'unicorno Poi quali altri brawler sono stati aggiunti che magari mi sono persa Allora vabbè questi qui li conosco già Pensi forse non lo conoscevo Clancy è nuovo? Credo di sì perché non l'avevo mai visto Otis anche credo che sia un nuovo brawler Perché non ce l'ho molto familiare Brawler in arrivo C'è la cazzone quella la Everyday I'm shuffling Ah io poi ho il microfono lontanissimo Spero che mi abbiate sentito Va bene Carino 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 Perfetto Allora Vabbè la prima cosa da fare ragazzi Ragazzi ci facciamo Una partita Proprio giusto una partita veloce veloce Per vedere se sono ancora in grado Andiamo in modalità singolo Andiamocene proprio con Barry Vediamo un po' se sono ancora in grado Questa è la mia prima partita da mesi Però ok Sono pronta Sono carica E poi ci andiamo ad aprire subito tutti gli star drop 42 star drop e 7 megacasse E ti va per davvero raga Che ti vuoi rubare il mio star Fa fatto pure l'occhiolino Io c'ho qui Allora Ok Abbiamo una Lily Oddio Oddio Ok Ci è andata bene Non ricordo la super che cosa fa Però Ok Aspettiamo che siamo vicini a qualcuno Ok Ok Vabbè ho sbagliato Ho sbagliato tutto Aspettate raga Che qua siamo in un momento Frenchy dreams Oh 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 No vabbè C'era da dire raga Che comunque Sono arrivata a seconda Quindi è sconfitta Ma fino a un certo punto Mi sto divertendo Vado su procede E comunque raga Non giocavo da un po' Però Guardate quante missioni Ma mo' in questi giorni Mi ci metto E vi faccio vedere Allora Star drop del cammino Va bene 50 monete Oh c'ho un botto Un botto Un botto Un botto di monete Raga Qua che posso prendere Vabbè I crediti Questi qui Punti energia E un altro star drop Super rare Va bene 50 bling Allora Nelle cose gratuite Ragazzi È un botto di roba Allora A parte che ho L'overdrive Di questo Ma non ho Shelly all'11 Quindi non posso Quanto mi manca Per portare Shelly all'11 Eh C'ho la 5 Sarebbe carina Averla Devo dirvi la verità È gratuita Soprattutto Ma Shelly Non è un personaggio Che utilizzo molto Quindi va bene Qua abbiamo Le casse Le 7 megacasse E i 42 Star drop Da beccarci Poi abbiamo L'offerta speciale Questa qui Regina Regina di cuori Regina cattiva Sembra tipo malefica Bellissima questa Valutiamo di prenderla Anche se non uso molto Pam L'override di Morsi Portare Morsi A livello massimo Tara con la sua overdrive Squeak con la sua overdrive Ma io non ce l'ho Squeak Non mi interessa manco Pocio Uguale Iris Ok Va bene Non è che qui Ok Questo è gratuito Questo ce lo prendiamo Questo non lo compriamo Ok Ok Qua invece ci sono altre skin Vabbè non è questo che mi interessa molto Andiamoci subito 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 Ad aprirci Prima i 42 Star drop Quindi vado Super carica Il primo È super raro Ok Vabbè Non è che mi dispiace 200 punti Energy Quello che è Raro Va bene Dai raga In 42 star drop In 42 star drop Almeno un leggendario Mi deve uscire Cioè dai raga Almeno un leggendario Mi deve uscire Raddoppi Ok Epico 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 va bene Ok 100 crediti Che vanno verso Leon Quindi Leon ci piace Leon lo vogliamo Leon lo desideriamo Ok Super rare Vado 100 monete E Raro Se direi che almeno Un leggendario Qua deve uscire Se poi non esce È Brawl Stars Che mi sta punendo Per il fatto Che non ho giocato In questo periodo Però Mitico Potrebbe uscire qualcosa No Guaia Non ho questi Punti energia Cioè però Brossard Sapete Dovrebbe fare Ok Non hai giocato Per tanto tempo Lo capisco Hai avuto da fare Ok La vita Però Dato che sei tornata Ti premio Con qualcosa Di leggendario Potrebbe essere carino Invece mi stanno Continuando ad uscire I punti energia Monete Le monete vanno Beh Tutto quello Che è monete Le cose che mi vanno bene Sono le monete I crediti Per sbloccare Leon E poi Se mi esce Anche un blur E queste tre cose Tutto il resto Bling Qua sono i punti energia Raddoppia per due Ok Non ho mai capito Come funzionano Ragazzi Raddoppi per due Ma i crediti Per esempio I punti energia Eccoli qua Questi Guardate quanti ne tengo Ho perso il conto Di a quanti Ne abbiamo aperti Però ok Stiamo andando Un po' più spediti Tutti questi rari Me li sto aprendo Veloce Super raro Ok Ok In super raro Abbiamo trovato Le emoji Di Larry e Barry Là dove si chiamano Ok 100 monete Abbiamo Un bell'epico Mortis Un altro epico Ok Va bene Facciamo finta Che non l'abbiamo aperto Raga Quell'epic Dai Ragazzi Io penso Che abbiamo Quasi finito Ok 30 crediti E ok Cioè raga Poi ci sono le 7 megacasse Quindi la mia speranza È Poi le 7 megacasse Vanno verso le 7 megacasse Super raro Ok Epic Ah Mi escono pure soltanto Le emoticon Di quelli che piangono Manco uno che sorride Mi escono tutte cose Di persone che piangono Quindi qua Già mi stanno avvisando E non ci mettere troppo le speranze Che qua Te ne esci piangendo Da questi star drop Ok Va bene Va bene Ok Però mi stanno dando Un sacco di monete E questo È top Ok Questo È Mol Super raro Va bene Abbiamo avuto Un sacco di monete Per il momento Questo mi va più che bene Anche raddoppia Ne Zitti tutti Zitti tutti Ti prego Zitti tutti raga Bro Oddio L'override Per coletto Mi va più che bene Lo spirito di colette La segue Durante lo scatto Danneggiando i nemici Che incontra Ottimo 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 Perché io con colette Mi ci trovo benissimo Mi pare che ce l'ho al 9 Quindi non è nemmeno Lontanissima Mi va bene questa Mi va bene L'override di colette Avrei preferito Un nuovo bro Sì Però Oddio E infatti Cioè 42 star drop Raga 42 star drop Un solo Un solo Leggendario Va bene Ma andiamocene Con le 7 megacasse Ok Allora Queste ne ha 3 Non mi sembra Ne sono un po' pochi Può essere Se ne sono pochi Abbiamo qualcosa Che brilli Alla fine Ok No Questa era la megacassa Per ricordarti Che esistono le megacasse Vai megacassa Vai 5 oggetti 6 compreso Questo qui Ok 71 monete Raddoppio per 2 Gemme Ok Le gemme Oh non mi sono Gli star drop Non mi è uscita Nemmeno una gemma Raga Ok Icona giocatore Di Jesse Uh E la reazione Ok Va bene Che carina questa Però viola Non lo so Questa scam Questa Mi ricordo un po' Questa Questa box Così Però ok Andiamo Ok 137 Monete Solo 3 oggetti 72 Bling Ok Vabbè Tristezza portami via Ok 31 bling 250 Di raddoppio Oh raga Brilla Brilla Il ragazzo Brilla Ok Skin per Brock Nuova skin Vice sceriffo I fuori legge Oh simpatica Questa mi sembra Che attiva O quelle lì Dei power rangers Però questa mi piace Che carina Questa reazione Questa reazione Mi piace un botto Questa reazione E' proprio Proprio carina Andiamo oltre Vabbè sono soddisfatta Di questa box Vi devo dire 75 monete Raddoppi Bling 300 Bling Addirittura Oh raga Il prossimo Brilla Il prossimo Brilla Jesse Ho sbloccato Un nuovo Brunner Ciao Ciao fang Benvenuto Tra i Drivers Fang Si è visto Così Tanti film Di kung fu Che praticamente Pensa di vivere In uno di essi E' sicuro di sé Carismatico E se è possibile Preferisce tirare calci Come un mulo Invece di penare i mugni Ok Bello Bravo fang Benvenuto in famiglia I coraggiocatore Perfetto Oh abbiamo sbloccato Un nuovo Brunner Skin Ho avuto la skin Ho avuto il brunner Oh ma che voglio di più Dalla vita Ho avuto l'overdrive Di Colette Nonostante Magari Avrei potuto avere Qualcosa di più Non è che Mi lamento 255 Bling Ok Quello brilla Raga Quello brilla Speriamo che non sono Punti energia Ok Dynamike Cos'ha Ham Ham King The stars Tonight Lo sapete Raga Quando c'è Dynamike Si canta Dynamite Dei BTS E' sempre una skin Del parchetto I fuorilegge Quindi ok Perfetto E poi abbiamo L'icona Di Ok Addirittura Ma Sono uscite un bel Cos'è Addirittura Forse ok La reazione Che mi è uscita E' Inerente Alla skin E poi abbiamo L'icona Giocatore Raga Devo dirlo Non mi è andata Male Pensavo che mi sarebbe Andata Decisamente Peggio E invece No Invece Non mi è andata Per nulla Male Mi sento Che comunque Raga Mi è andata Bene Mi è andata Decisamente Bene Con Fang Ho un bel po' Di broder A cui ho scritto Ancora nuovo Tipo Angelo Bonny Vabbè L'overdrive Di Colette Qua dovrei Comprare Anche qualcosa Che dite Raga Mi consigliate Di portare Colette All'11 Consigliatemi Così magari Poi attivo Anche la sua Overdrive Fatemelo Un po' Sapere Ditemi un po' Che cosa ne pensate Ecco Questi qui Vi faccio vedere Questi sono i miei Broder che sto ancora Potenziando Cosa dovrei potenziare Adesso che ho Così tanti soldi Che magari Li posso potenziare Edgar Buds Dynamite Colette Spike Do Lily Voi che mi consigliate Di potenziare Tra questi Broder che ho Secondo voi Qual è il più forte Che mi conviene Potenziare Ad utilizzarlo Nelle classificate Perché devo tornare Assolutamente a fare Anche le classificate Questo è quanto Voglio assolutamente Sapere inoltre Che cosa è uscito Dai vostri Start drop Dai vostri premi Start drop E dalle vostre Mega casse Avete sbloccato Qualche brawler Qualche brawler Leggendario Fatemelo sapere Giù nei commenti Sono troppo Troppo curiosa Quindi ragazzi Mentre io resterò Ad aspettare L'arrivo della mia Stagione di SpongeBob Lì nell'angolino Vi lasciate un bel Mi piace Se il video vi è piaciuto E per iscrivervi al canale Vi basterà cliccare sul pallino Che vedete sotto di me Mentre di qua ci saranno Altri video da guardare Cliccate pure sulla miniatura Io vi saluto Ci vediamo domani Con un nuovissimo video E vi raccomando Non smettete mai di sognare Ciao